Noi siamo per dare rappresentanza democratica a tutte le istanze e a tutta la comunità della nostra regione. La ridefinizione di alcuni collegi maggioritari per le elezioni politiche del prossimo anno, riferita in particolare alla riduzione del collegio di Gorizia e al parallelo aumento di quello di Udine 3, mediante l'inserimento di 10 comuni territorialmente contigui, grazie ai quali vi sarà una maggiore incidenza di cittadini di lingua slovena, aumentando così le possibilità di elezione per un rappresentante della minoranza, viene salutata con soddisfazione da Walter Godina, esponente del Partito Democratico. La questione slovena è una questione che si presenta ciclicamente, ma giustamente in tutte le tornate elettorali. Sappiamo che il numero dei collegi non era modificabile e sappiamo anche che nella recente visita di Matteo Renzi a Trieste c'è stato anche un incontro sul treno in cui, insieme anche con onorevole Rosato, capogruppo alla Camera, si era parlato proprio in vista di questa possibile modificazione. Il Partito Democratico ha sempre voluto garantire omogenità di rappresentanza per le varie componenti del territorio a tutti i livelli amministrativi, prosegue Godina, e quanto stabilito nella bozza di decreto del Governo conferma questa volontà, ma tale orientamento dovrà trovare attuazione anche in altre consultazioni. Intanto si è iniziato con questo collegio e dopodiché non dimentichiamoci che ci saranno anche le elezioni regionali in questa regione, oltre che a quelle politiche, e quindi credo che sarà oggetto anche delle trattative politiche nell'ambito del centro-sinistra e delle forze democratiche che vogliono presentarsi a queste elezioni.